E' stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa la quarta edizione dell'Italiano Sport Awards, Gran Galà dello Sport Italiano, in programma ad Agropoli dal 17 al 20 maggio. L'edizione 2014, che è il patrocinio tra gli altri del CONI e della FIGC, sarà dedicata a Marco Pantani, con la madre del ciclista che sarà presente nel centro cilentano il 19 maggio. L'evento che vedrà la partecipazione dei campioni dello sport italiano, che ritireranno il premio nel corso della Notte dei Campioni, che si terrà martedì 20 maggio al Castello Angioino Aragonese, è il momento clou di una ricca primavera di sport che sta caratterizzando la città agropolese. E' una bellissima vetrina che si apre sulla nostra città attraverso lo sport. Saranno qui tantissimi appartenenti al mondo dello sport a vario titolo, giornalisti, procuratori, arbitri, atleti. E quindi ci auguriamo che questo serva a far conoscere le nostre belle realtà di questo territorio del sud, che a volte viene soltanto citato per le cose che pure ci stanno e che non le neghiamo negative che accadono. Però ci sono realtà davvero che stanno crescendo, che stanno progredendo e dove c'è uno sforzo immane dietro delle amministrazioni locali, degli operatori turistici, degli appartenenti alle associazioni. Insomma, c'è un impegno corale per far andare avanti questo territorio. Senza far torto alle iniziative che fino ad adesso ci sono state, Alf Marathon e altre, qui si sale praticamente di livello. Giocatori di Serie A, giornalisti di Sky. Quanto è pesante a livello di amministrazione organizzare queste cose? Pesa. Però io sono tra quelli che la spesa per lo sport, per la cultura, per quelli che sono azioni immateriali, sono importantissime ai fini della valorizzazione e promozione. del territorio. Quindi qualcuno poco attendo pensa che questi sono soldi buttati, noi riteniamo invece di no. Tanto è vero che un'azione forte di questi ultimi anni ha portato a far diventare Agropoli un punto di riferimento per il turismo. La prima cosa che mi fa piacere definire è Agropoli capitale dello sport italiano. dal 17 al 20 maggio dove ci sono tutta una serie di attività che basta consultare anche il sito internet della manifestazione che è italiansportawards.it. Il programma prevede attività, incontri, dibattiti con la presentazione di libri, con la partecipazione di ospiti illustri, del panorama calcistico e non solo. C'è una tematica sociale perché ovviamente l'edizione sarà dedicata a Marco Pantani dove ci sarà anche la presenza della signora Tonina Pantani. Si parlerà di calcio, si parlerà di un convegno nazionale dal titolo Giovani professionisti del calcio, quale futuro in Italia. Si parlerà, ci sarà una mostra pittorica, i campioni dello sport, ci sarà ovviamente il villaggio dello sport in collaborazione con il CONI. Ringrazio la città di Agropoli che ospiterà questa vetrina importante dopo il grande successo di Castro Caroterme, Italia Sport Awards a Proda ad Agropoli dal 17 al 20 di maggio. E ovviamente l'evento più importante e prestigioso è il 20 maggio con la consegna dei premi e quindi con la serata di gala. Ovviamente ci sono tantissime categorie, c'è tutti gli sport, c'è il calcio serie A, calcio serie B, la Lega Pro, categoria media informazione, città italiana dello sport. E quindi è stato definito l'evento mediatico sportivo dell'anno, quindi l'evento più importante che attualmente c'è in Italia. L'appuntamento è dal 17 al 20 di maggio ad Agropoli con Italian Sport Awards 2014.